Ragazzi, benvenuti su Castiubedrums, oggi mi è arrivato un pacchetto abbastanza piccolino da strumentimusicali.net che voi state aspettando da una vita ma non lo sapevate perché? Perché mi state rompendo le scatole da quando ho fatto uscire un video sugli accordatori di batteria che uno di quelli più belli, forse il più bello tra i tre che avevo fatto vedere, non si trova più, quindi sono mesi che mi state dicendo come faccio a trovare quell'accordatore, come faccio a trovare quell'accordatore, ecco non si trova quell'accordatore quindi ho deciso di portarvene due, uno, ma in realtà sono due, no no sono due alla fine che forse è anche, anzi molto probabilmente, è anche meglio di quello che avevo fatto vedere prima e vi sto parlando del TuneBot di casa TuneBot ma dato che ce ne sono due tipi, vengono portati due tipi, quello studio e quello gig eccoli qua i due TuneBot esistenti, tempo fa ce n'era anche un altro ma era vecchio e è uscito fuori produzione quindi questi che cosa sono? Questi sono degli accordatori per batteria che possono funzionare su qualsiasi tamburo ovviamente sui piatti, eh non funzionano ma non credo neanche di doverlo dire dove la metto questa? e quindi andiamo a vederli, adesso li vado a spacchettare, oh bello, bello qua! ah quello studio ha, che qualità ragazzi che qualità, con la pinzetta tutto a posto il giga ovviamente è quello che costa meno tra i due, no non ce l'ha la scatolina come lo studio, tra l'altro è grigio è diverso, sono completamente diversi, questo ha le pile, questo ha le pile, spero, no? hai le pile tu? sono qua quindi andiamo a vedere perché uno è nero, uno è grigio, uno ha un sacco di pulsantini, l'altro ne ha solo due e vediamo un po', quindi sposto la camera un po' più indietro così mi metto un rullante qua, faccio un po' di prove, oggi voglio fare un po' di prove mando la sigla e partiamo! eccoci qua, ho posizionato il rullante, ho posizionato perché voglio partire dal rullante ho posizionato i due team bot sul rullante che andrò a paragonarli insieme perché fanno le stesse cose questo qua studio ha qualcosina in più ed è quello che costa di più ma in generale comunque tutte e due possono fare le stesse cose andiamo ad accenderli e già subito accendendoli noterete un problema cioè voi noterete il problema, io in realtà non lo sto notando questo problema ma questo è acceso, questo per voi è spento allora non so il perché ma questo team bot qua non si vede se la camera è da questa parte infatti se io faccio questa cosa qua voi vedrete perfettamente il numero se io faccio così sparisce non so assolutamente il perché ma io posso fare in questo modo metto il team bot qui e voi vedete perfettamente tutto tanto i numeri che daranno i due team bot saranno molto simili farò affidamento più su questo dato che è messo in posizione giusta ma saranno circa uguali prima cosa togliamo la cordiera quindi abbassiamo la cordiera per quanto riguarda il rullante potete tranquillamente accordare col team bot sullo stand da rullante normale in generale consiglio di stoppare sempre la pelle sotto soprattutto se fate un tom o se fate qualcosa comunque dopo lo vediamo meglio allora cominciamo a vedere che cosa può fare il team bot allora il team bot funziona per frequenze quindi va a capire una certa frequenza del rullante o di qualsiasi tamburo e poi ti permette di replicarla su tutti gli altri tiranti eccetera 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 allora per prima cosa noi possiamo lasciare il team bot in questo modo e andare a lavorare sulle armoniche le armoniche date da ogni singolo tirante quindi se noi andiamo a suonare a qualche centimetro dal tirante vedremo che 281 283 vabbè questa è la frequenza del nostro tirante ci piace non è troppo alta non è troppo bassa facciamo finta che ci piaccia quindi andiamo a cliccare questo oppure il tasto grande per il team bot gig e lui ci setta il target su 280 quindi adesso nel momento in cui noi andiamo a colpire lo stesso tirante siamo praticamente giusti vedete 0,5 di frequenza un pochettino meno ma 0,5 non c'è problema se noi andiamo a vedere un altro tirante meno 6 vedete che l'ago qua è andato verso il basso devo andare a prendere la mia chiavetta e tirare su di un po' il mio rullo meno 2 io faccio sempre affidamento qua meno 0,5 eccolo qua ovviamente una cosa che vi dico è che ad esempio io adesso sto lavorando un po' su questi due e sembra che siano completamente fuori perché quando io tiro uno un po' tira anche l'altro perché la pelle ovviamente sono vicini questi due quindi bisogna stare molto attenti e provare pian pianino a allinearli tutti tiro un po' su questo questo è troppo alto, tiro un po' giù poi vado a vedere anche questo troppo alto, tiro giù vedete è sempre meglio in generale sono tutti da tirare giù troppo troppo eccolo qua vedete che adesso sono tutti praticamente uguali ok? quindi adesso proviamo a tirare sulla cordiera suona di brutto suona di brutto quindi vedete che allora qua questo mi ha aiutato tantissimo perché la mia pelle sopra adesso è perfettamente tutta uguale posso andare poi ovviamente a decidere quanto tirare la pelle sotto che in generale vi consiglio di tirare di più di quella sopra sotto potete andare poi a decidere qual è la vostra nota anche perché attenzione non ve l'ho detto ma se voi tornate indietro qui se voi fate 280 che vabbè adesso mi becca 277 ma vi dice anche che nota è C diesis 4 quindi do diesis nella quarta ottava quindi voi potete andare tranquillamente a calcolarvi anche ad esempio se volete l'intervallo giusto per riuscire a tirare la pelle sotto pelle sotto stessa cosa dovrete ovviamente mollare la cordiera magari toglierla e poi mettervi lì trovare qual è la frequenza giusta per la nota che volete e siete a posto oggi non voglio insegnare come si accorda la batteria ma insegnarvi come funzionano i team bot poi sarete voi ovviamente a dire il suono lo voglio più così più cosà in generale una cosa che piace fare a me come intervalli ve lo dico giusto così è quello di lasciare tra sopra e sopra e pelle sotto un intervallo di terza minore però lì ovviamente poi dipende da ognuno di voi adesso facciamo la stessa cosa con un tom quindi prendiamo ad esempio il tom 2 togliamo questi e spostiamoci eccomi qua con il mio tom da 12 pollici stoppatissimo sta suonando praticamente solo la pelle sotto sopra scusate perché la pelle sotto è stoppatissima da un pad allora qui funziona nello stesso modo non sono riuscito a spostarvi il team bot come prima facendovelo vedere ma facciamo affidamento su di questo sapete molto bene che questi due danno lo stesso numero in questo momento sta dando 162 e anche questo sta dando 162 come potete vedere spero sì come potete vedere qui quindi danno perfettamente lo stesso identico numero questa cosa che non si vede da dietro in realtà non voglio darvela come un problema perché in realtà io vedo perfettamente anzi nel momento in cui sono davanti si vede meglio su questo team bot rispetto a questo qua con questo schermo un po' azzurrino però non vi preoccupate di questa cosa che vi sto dicendo è solo per una questione video che non riesco a farvelo vedere detto questo allora qua abbiamo la possibilità di fare la stessa cosa di prima cioè andare a vedere qual è la nostra nota e rifare la stessa cosa di prima quindi cliccare e andare a vedere poi tutte le varie note che vogliamo mettere a posto oppure volendo possiamo anche andare a suonare in mezzo beccare la fondamentale del nostro tamburo che in questo caso è 163 ed è un mi nella terza ottava e salvarci questa se ci piace come nota fondamentale nel momento in cui poi noi dovremo tornare a cercare questa nota allora sapremo che la nostra fondamentale è E3 a 164 Hz e la possiamo ritrovare facilmente proviamo ad esempio a vedere invece come facciamo prima quindi anche qua 186 salva salva anche qui e vediamo 186 allora devo dire che sul tom essendoci tante risonanze hanno incominciato a dire un po' di valori diversi io mi fido sinceramente più di questo qua però alla fine lui mi da quasi tutto a zero qua ogni tanto c'è qualcosina però mi sembra che comunque i suoni siano tutti uguali non è niente male contando che stiamo tirando solo la pelle sopra tiro la pelle sotto nello stesso modo aumentando un po' la frequenza e poi lo sentiamo aspettate faccio un secondo arrivo subito fatto vediamo un po' com'è la situation rimettiamo il microfono se no sentite dal mio di microfono e non capirete niente non capireste niente sentiamo un po' raga funziona più che altro accordato così è super mega giga fermo cioè non troppo in realtà un po' di suona però è bello perché sta lì non rompe le scatole funziona funziona adesso questo l'ho fatto a 195 di frequenza la pelle sotto adesso vi faccio vedere ancora due cose facciamo così sposto la camera si aspettate vi faccio vedere ancora alcune cose che ha questo qua ma devo avere la camera davanti per farvi vedere se no non si vede come avete visto eccoci qua quindi con il TuneBot Studio come potete vedere si vede molto 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 bene non da per niente fastidio la schermata le cose in più che possiamo fare sono quelle di filtrare tramite questo tasto filter le frequenze più alte o più basse mi sembra di 30 hertz rispetto a quelle che interessano a noi in questo modo nel momento in cui andiamo a suonare altri pezzi della batteria non interagiscono troppo su quello che stiamo facendo diciamo anche se magari prende delle frequenze strane da altri tamburi poi tenendo premuto su filter attiviamo l'high range c'è scritto qui anche se voi non lo vedete l'high range è la possibilità di arrivare a frequenze anche superiori ai 400 hertz difficilmente si arriva a queste frequenze ma possiamo averne bisogno ad esempio per un rullante tirato molto 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 alto altra cosa importante del TuneBot Studio è la possibilità di salvare i set quindi andando qua potete vedere dietro al mio dito che facciamo così che qui cliccando vengono 5 numeri 5 kit quindi kit 1, kit 2, kit 3, kit 4, kit 5 e poi per ogni kit possiamo andare a salvare il tamburo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 quindi 10 perché partendo dallo 0 possiamo salvare 10 tamburi per ogni set di batteria il set di batteria vi ricordo sono 5 e qui su questo tastino head possiamo dire per ogni tamburo della nostra batteria che tipo di pelle è cioè top, bottom o fondamentale quindi la nota fondamentale del nostro tamburo di sicuro questi sono degli ottimi 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 prodotti mi hanno veramente stupito ne avevo sempre sentito parlare dei TuneBot ma non ne avevo mai provati hanno una perfezione e una accuratezza veramente pazzeschi quindi questo secondo me è ancora di più mi spiace che non l'abbiate potuto vedere al meglio oggi per questa cosa dello schermo ma vi assicuro che è veramente una bomba allora tra i due vista la differenza di prezzo io andrei decisamente sullo studio perché veramente la differenza di prezzo è poca la fattura sinceramente mi piace molto di più questo è un po' satinato sembra questo è più plastica anche se poi sono plastiche tutte e due però questo mi sembra un po' più rifinito ha la possibilità di salvare i kit che volendo non è chissà cosa perché non ha la possibilità di nominare i kit quindi voi dovete ricordarvi kit 1 qual è il tamburo 0 qual è questa cosa qua oppure segnarvelo su un foglio di carta su un cellulare sulle note quello che volete però comunque è una cosa in più che ha i filtri ha la questione range secondo me tra i due vince ma detto questo questo il gig sicuramente è un ottimo un ottimo un ottimo prodotto quindi io voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di provare questi due tune bot questo di sicuro al 100% me lo terrò perché lo userò nel momento in cui devo accordare la batteria oppure nel momento in cui devo magari andare a ricreare un suono che avevo quindi con questo è sicuramente semplicissimo e ti salvi i tuoi preset e sei a posto quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questi prodottini qua se mi son fatto perdonare dopo avervi fatto la recensione dell'altro accordatore e poi averlo fatto sparire dalla produzione non io ma in generale quindi fatemi sapere se mi avete perdonato per questo problema e noi ci vediamo al prossimo video ricordatevi che qui sotto in descrizione c'è l'articolo ciao ragazzi ah no e tutti i link ovviamente di questi tune bot sono tutti qui sotto sempre in descrizione ciao 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 ciao